Silvio Berlusconi ha nominato il senatore Giuseppe Mangialavori coordinatore regionale di Forza Italia in Calabria. Il cavaliere ha nominato anche il nuovo vice coordinatore regionale della Calabria, che sarà l'onorevole Francesco Cannizzaro. Assumo l'incarico con gioia, rispetto e grande senso di responsabilità. Per me è un onore rappresentare questo partito e non posso che ringraziare il presidente Silvio Berlusconi per la fiducia che ha voluto riporre in me. Ecco la prima reazione di Mangialavori. Congratulazioni al senatore Giuseppe Mangialavori e al deputato Francesco Cannizzaro da parte di Roberto Chiuto, deputato e attualmente candidato alla presidenza della regione per il centrodestra. Sono certo che faranno bene e che daranno ulteriore impulso al nostro movimento sul territorio anche in vista delle elezioni regionali che si celebreranno subito dopo l'estate. L'uomo giusto al posto giusto ha detto di Mangialavori il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo. Il dinamismo, la passione e le capacità politiche di Mangialavori rappresentano una sicurezza nel percorso di credibilità politica e istituzionale di Forza Italia in Calabria. Commosso Mangialavori, mentre ricorda il suo predecessore Iole Santelli, raccolgo una grande eredità. Spero solo di poter ripetere almeno una piccola parte dei suoi successi politici. Iole non ha mai mollato fino a far triunfare Forza Italia alle ultime elezioni regionali, quelle che hanno visto diventare lei prima presidente donna della regione e Forza Italia primo partito del centrodestra.